bravo! Fisioterapia e preparazione sport specifica. Made in move.it Officine Santa Fede. Flanges made in Italy. Officinesantafede.com Fisioterapia e preparazione sportive. La letta dell'acqua con Simone Danna che approfitta di un buco centrale e dopo il velo di Fall insacca da un metro dalla linea di porta cross di Napoli con praticamente la palla che filtra in area di rigore. Moleri avanza sulla destra, Fall si allarga bene e poi in servizio al centro dove c'è Danna che prova la conclusione di poco alto sopra la traversa. Buona la giocata a Biceleste sulla destra. Sulla sinistra Miele di nuovo al centro Lombardi. La conclusione bella. Giro sul secondo palo che si spegne di non molto. Fuori dallo specchio difeso da Safaricas che si era proteso in tuffo. Sarebbe meglio non rischiarle mai però degli innocenti. Intanto intercetta il rilancio e la conclusione mamma mia di pochissimo alto sopra la traversa. Napoli verticale salta all'uomo. Poi il taglio su Danna a destra che mette giù un buon pallone attacca Cambiaso. Il cross al centro Danna e c'è il fallo su Fall che invece no riesce a concludere alto sopra la traversa. Va segato lo schema. La palla parata praticamente da Bagigalucolo col corpo. Si lamentano di un fallo di mano. Danna e Malgrati. Malgrati fa segno all'arbitro. Devi averlo visto perché eri qua. Eri dritto davanti al giocatore. Buono il palleggio a centrocampo. Mamma mia Safaricas uscita vuoto alla conclusione. Poi debole. Samachei riesce a intercettare. Ali in questa occasione a seguire Danna. Per Moleri attaccato da due uomini. Moleri. Ci sono due uomini su di lui. Fallo ai danni di Moleri. E Miele che scalcia Moleri. Miele scalcia Moleri. Miele già monito. Il lancio bellissimo per Danna. Sulla sinistra. Danna è un po' solo. Arriva Dragoni. Danna decide di puntare dagli innocenti. Lo salta. Taglia verso il centro. Danna la conclusione. Facile però per Fiori. Centrale. Violenta ma centrale. Fiori in due tempi. Non ha problemi. Che mette giù. Un buon pallone. Salta all'uomo. Lisai. Il cross. Fall di testa. La mette fuori. Amet cosa ha sbagliato. Una girata praticamente a porta vuota perché il portiere ormai era saltato. Sul secondo pallo. La girata di testa sul fondo. Sponsored by Centro Commerciale Le Piazze. Dal 1993 il primo centro commerciale di Lecco. Centrolepiazze.it Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. Caponerolivio.it Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti. L'esperienza che fa la differenza. Fratelli Calegari.it Made in Move. Fisioterapia e preparazione sport specifica. Made in Move.it Officine Santa Fede. Flanges made in Italy. Officinesantafede.com